benvenuti a questa nuova puntata di Mappamundi streaming e vedete subito Mirko e Mirko ormai un format consolidato del canale Mirko Mossetti ciao Mirko in questo caso uno ovviamente non c'è una gradatoria Mirko Campoghiari Parabellum ciao Mirko due ciao a tutti allora intanto chi ha seguito sui social questa è stata la settimana del festival di Limes a Genova dove evento nell'evento c'è stato l'incontro di persone tra i due Mirko a Genova perché finora vi avevate conosciuti solo solo a distanza e quindi ormai insomma è una coppia consolidata andiamo subito al dunque aggiornamento sulla guerra in Ucraina ovviamente parleremo del missile il missile che è caduto in territorio polacco ha fatto due vittime che insomma vedremo se state forse anche sull'orlo della terza guerra mondiale almeno per alcune ore però andiamo con ordine perché dobbiamo un po' aggiornare la situazione e soprattutto la premessa di tutto inizierei con Mussetti e Bali cioè il G20 di Bali è stato un momento con l'incontro tra Biden e sì che tra l'altro abbiamo anche alcune immagini ma anche soprattutto io lo chiamerei uno show nel senso che ha usato tutte le armi anche spettacolari zenezchi per attaccare la Russia con l'assenza di Putin il G20 si è trasformato in una serie di accuse alla Russia quindi è stato un brutto colpo diplomatico e politico per la Russia per la Russia immagino si è d'accordo Mussetti e quindi c'è stata poi una reazione sei d'accordo con questa interpretazione sì sicuramente il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha sfruttato il palcoscenico del G20 ricordiamo che l'Ucraina non è membro del G20 era proprio un invitato era stato ufficialmente invitato il presidente ucraino e date le sue grandi capacità oratorie non ricordiamoci che era un attore è riuscito sostanzialmente a sfruttare questo momento di visibilità per accusare pubblicamente la Russia dei crimini commessi nel paese in basso nel suo paese naturalmente la cosa non è stata presa bene dalla Russia non è stato preso bene ad esempio il fatto che Zelensky si rivolgesse al G19 dunque escludendo il ventesimo paese la Russia quasi a dire non fai parte del consesso dei grandi paesi mondiali questa cosa non è stata presa per nulla bene dalla dalla Russia che anzi sperava in un inizio di trattative non dimentichiamoci che negli ultimi giorni gli Stati Uniti cercavano di indurre la presidenza ucraina a rivedere le proprie posizioni quindi a non scartare a priori dei negoziati con la Russia non dimentichiamoci che il presidente Zelensky ha firmato un decreto che vieta i negoziati con la Russia fin tanto che Putin ne rimarrà il presidente gli americani insistono per non avere una chiusura così forte non chiudere a priori la possibilità dei negoziati questa diciamo nuova posizione americana è stata ribadita anche dal capo di stato maggiore Milley che per la seconda volta ha diciamo spronato l'alleato ucraino a iniziare a parlare di negoziati la prima volta Milley aveva detto con il ritiro da Kherson si può iniziare a colloquiare sul futuro dell'Ucraina la risposta sia del presidente Zelensky sia del generale in capo alle forze armate ucraine aveva detto no dobbiamo recuperare tutto il territorio non ci sono le basi per negoziare con la Russia fin tanto che non li avremo esclusi totalmente dal territorio ucraino un attimo perché intanto volevo mostrare un po' anche le immagini sull'incontro produttore a Biden e si a Bali con fondi molto morti da parte di Biden e non morti da parte giunista però vedete anche i sottotitoli e questo ha segnato anche con quello che andiamo dicendo già da un po' di tempo e già da Samarkand è stato abbastanza chiaro che la Cina è tutt'altro contenta di come andava la guerra in Iran noi sappiamo che in Russia è uno dei decennizi che la guerra sarebbe stata breve quindi quell'asse che si stava andando su Iran dal 2014 tra Cina e Russia in realtà in questi ultimi mesi di guerra si sta sottanando non sopportano più come sta andando la guerra in Ucraina questa situazione che la mette in difficoltà per vari aspetti che abbiamo parlato in altre trasmissioni ne parleremo anche in altre e allora la reazione a quello che è successo a Bali è stato Campochiari poi ovviamente Mussetti tornerai a parlare ovviamente è stata una selva di missili, un bombardamento come insomma forse anche superiore a quello che c'è stato a ottobre contro l'Ucraina che dici? erano insomma una novantina di missili sono stati lanciati se non sbaglio sì, oltre a una novantina di missili che è superiore a quello che è avvenuto negli ultimi due mesi forse l'unico attacco che era superiore a questo era quello dell'inizio guerra che erano circa 150 nei primi giorni non so se è onestamente una risposta al meeting o se è una risposta alla perdita di Kerch o tutte e due perché possono essere entrambe scusate di Kerch e di Kerson possono essere probabilmente entrambe le cose nel senso che questi attacchi vengono comunque pianificati a priori non nel giro di un paio di giorni perché vanno identificati i bersagli sicuramente i russi avranno delle spie sul campo per verificare anche i danni causati e vedere se un bersagli deve essere colpito un'altra volta o se si deve passare a un prossimo fra l'altro il team che si occupa di questa scelta di bersagli è stato anche scoperto e diciamo portato alla luce da Bellingcat con un'indagine perché hanno il vizio di postare le loro immagini su Facebook e su altre cose quindi si è un po' ricostruito anche chi è che si occupa di questa scelta di bersagli quindi c'è anche un lavoro di indagine in questo senso qui vorremmo fare una puntata sui social e la guerra perché su vari fronti i social hanno rovinato operazioni militari varie poi magari faremo una puntata doc su questo il pericolo dei social e militari che si lasciano sfuggire insomma a notizie che non dovrebbero sui loro social privati quando vi cito un aneddoto insomma a un certo punto furono le sue rubbliche delle basi segrete militari americane in Afghanistan perché i soldati americani facevano jogging attorno alla base lungo il confine e usando i social e i software che tracciava la loro corsa al loro allenamento ginico di fatto veniva fuori proprio la forma della base l'esatta collocazione dove poi insomma chiudo l'aneddoto perché appunto è divertente torniamo alla guerra sì l'obiettivo come sappiamo è sempre il solito cioè distrugge la rete energetica ucraina ultimamente gli ucraini hanno migliorato il loro sistema antiaereo perché insomma di questa novantina di missili circa 72-75 sono stati intercettati quindi hanno ridotto di molto i danni anche se molte città sono andate in blackout e generalmente la situazione ucraina non è migliorata probabilmente quello che sono riusciti a riparare con questo attacco è stato danneggiato un'altra volta e quindi siamo più o meno agli stessi livelli di poche settimane fa quindi la situazione è sempre sul 40% della grillia energetica ucraina in parte anche quella idrica completamente fuori uso con estremo dolore e danno insomma per la popolazione Allora questo è uno dei missili usati forse il più avanzato se non sbaglio dei cruise russi per colpire appunto i bersagli ucraini a distanza, a lunga distanza Sì è uno dei più avanzati il KH-101 forse sono stati utilizzati anche dei KH-555 il codice nato Kent-C probabilmente il grosso è stato fatto con questo tipo di missile che dovrebbe avere comunque un circular error cioè l'errore medio circolare di errore di pochi metri quindi dovrebbe essere piuttosto preciso questi sono lanciati di solito dai bombardieri Tupolev o da vari tipi di aerei che possono agganciare questo missile può essere sparato se non sbaglio i russi lanciano anche dai sistemi S-300 ed S-400 qualora i bersagli si trovino più vicini a ridosso insomma con il confine russo Allora Mirko Mussetti abbiamo già accennato all'altra puntata che abbiamo fatto insieme quindi questa tattica russa consiste nel mettere in crisi il sistema, le infrastrutture energetiche ucraine perché arriva l'inverno Certo, si agisce proprio in questo momento perché siamo alle porte dell'inverno la risposta a questa salva di missili è facile che sia anche una risposta politica non a caso è avvenuta un paio di ore dopo il discorso di Zelensky al summit di Bali e sicuramente programmata comunque in precedenza la strategia russa si era un attimino fermata prima del vertice ma è subito pronta a ripartire dopo il vertice e l'obiettivo dei russi è primariamente quello di paralizzare il sistema elettrico dell'Ucraina colpendo anche magari più che le centrali le sottostazioni perché? Perché sono d'origine sovietica e i pezzi di ricambio sovietici scarseggiano ecco dunque che l'Ucraina potrebbe avere proprio nei prossimi mesi anche dei problemi a riparare quanto danneggiato dei russi un'altra risposta politica in questo caso è stata il fatto che è stata colpita anche la sede centrale dei servizi segreti ucraini a Kiev che è un pochino come se in Italia venisse colpita Piazza Dante questo è un grosso messaggio politico che la Russia sta cercando di far passare alla controparte ucraina ovvero attenzione finora non avevamo colpito i centri decisionali politici da ora in poi potremmo farlo quello che ha fatto veramente arrabbiare i russi è stato il fatto che con il ritiro di Kherson il presidente ucraino è addirittura andato a Kherson per festeggiare in quell'occasione poteva tranquillamente essere un tiro al piccione i russi avevano la possibilità effettiva di uccidere il capo di Stato ucraino un paio di giorni dopo si trovano accusati in uno dei più importanti summit mondiali dei crimini e insomma del comportamento russo in Ucraina poi ci torniamo quando non è andata giù altra cosa che magari che magari diciamo porta avanti il prossimo discorso è il fatto perché tentano di colpire nella zona di Leopoli beh perché ci sono dei sistemi per convertire l'elettricità occidentale col sistema d'origine sovietico ucraina prima e peraltro installati alla vigilia della guerra fino allo scorso anno l'Ucraina non poteva importare elettricità dai paesi occidentali l'Ucraina non dimentichiamo che è un produttore netto di elettricità esporta l'elettricità però il sistema sovietico impone o a causa di tensioni differenti o l'importazione di elettricità da est o da ovest ma non da est e ovest contemporaneamente ecco perché con i soldi dell'Unione Europea erano stati costruiti questi sistemi che probabilmente possono essere bersagliati dalla Russia e allora è spiegato perché tra gli obiettivi c'era la zona al confine tra Ucraina e Polonia qui vediamo l'immagine tra la cartina che trovate sull'ultimo volume di Limes tutto un altro mondo che trovate in edifico la libreria e per abbonati online quindi i bersagli ci hai portato ma prima di passare al missile con Campochiari so c'è la questione anche energetica cioè ci sono problemi anche sulla più importante condotta che porta l'oleodotto che porta dalla Russia attraverso l'Ucraina e raggiunge l'Ungheria e altri paesi europei questo paradosso della guerra per cui i russi sono in guerra con gli ucraini ma continuano a fornigli gas che cosa è successo lungo questa condottura? è successo che è stato danneggiato anche l'oleodotto Druzba che porta Greggio fino all'Ungheria tant'è vero che Orban contestualmente chiamava a sé il Consiglio Nazionale di Sicurezza per consultazioni questo cosa significa? significa che il Greggio russo potrebbe non arrivare più verso i paesi occidentali in particolare all'Ungheria chiamiamola filo russa diciamo Orban non è mai particolarmente distante dalle posizioni russe e questo cosa può indurre? possono esserci due motivi o la Russia si è davvero stancata va bene non vende più idrocarburi all'Europa tanto sarebbe destinato a non venderli e allora si prepara a chiudere anche gli idrocarburi all'Ucraina proprio questo inverno come hai ben detto l'Ucraina sta continuando a comprare gas da Gazprom nonostante chieda agli altri paesi dell'Europa di rinunciarvi questo è bene saperlo altra cosa è che i russi potrebbero voler danneggiare le condutture come gli oleodotti per impedire il pompaggio inverso ovvero per impedire il transito di petrolio o altri idrocarburi dall'Europa verso l'Ucraina non dimentichiamoci che quando ci sono danni o blackout si attivano i generatori di elettricità magari a diesel ecco i russi vorrebbero che nemmeno quelli funzionassero gli idrocarburi sono importanti non solo per muovere i mezzi militari pesanti ma anche per far funzionare ad esempio i generatori elettrici d'emergenza e arrivano temperature sotto zero in Ucraina quindi se non c'è elettricità non possono far funzionare i generatori d'emergenza è un grosso problema e questo è l'elemento molto importante ma campo chiaro andiamo finalmente da quello che tutti attendono e c'è la vicenda del missile e c'è del ricostruiscila e soprattutto pronuncerci bene la cittadina polacca dove è caduto il missile Pszewodow e lo so che è un po' difficile perché i polacchi hanno tutte consonanti spesso i comici ci scherzano sopra perché si ricorda vecchi sketch di Zelig beh all'inizio se sei per metà polacco per questo insomma mi rivolgo a te come autorità sulla pronuncia da polacco all'inizio la questione era confusa nel senso che dopo l'attacco missilistico russo si è venuto insomma è venuto fuori questa cosa che un missile era accaduto in Polonia proprio a Pszewodow e non si sapeva se era un missile russo o un missile ucraino all'inizio addirittura si parlava di due missili perché? perché il sistema utilizzato dagli ucraini per intercettare i missili nella zona di Leopoli sono gli S-300 di derivazione sovietica e quindi solito vengono lanciati per intercettare a loro volta un missile quindi non si sapeva se il missile che avesse colpito fosse un missile russo uscito diciamo fuori la sua rotta quindi mancando il bersaglio o se era questo S-300 che tentando di intercettare il missile russo fosse uscito a sua volta anche quello dalla sua rotta magari per un problema al sistema di guida o per un problema insomma al sistema di propulsione quello che all'inizio si vociferava è che fosse un missile russo perché sembrava la cosa insomma più ovvia poi col tempo soprattutto il giorno dopo sono uscite delle ulteriori analisi e foto e si è identificata la cosa come un S-300 ucraino non si sa fra l'altro dove è finito il missile russo che l'S-300 stava inseguendo quindi o l'S-300 ha sbagliato rotta totalmente per un guasto oppure il missile russo va ancora insomma trovato non si sa dove abbia colpito se è andato a bersaglio o se è andato fuori bersaglio questo è ancora da verificare e da accertare il governo polacco si è mosso subito in quella fase lì fra l'altro io notavo che ancora prima del governo anche questo è uno dei frammenti del missile avete visto anche la foto del luogo dove c'è stato l'impatto ecco appunto con le due vittime polacche però ancora prima del governo polacco si era mosso dando la sua solidarietà e pieno appoggio al governo lituano per dare un'idea quindi c'è una certa volontà una certa insomma apertura verso l'azione da parte dei paesi baltici che forse questo poteva diventare un caso sbelli è venuto subito a smorzare abbastanza il governo polacco prima facendo un meeting durante la notte forse invocando vedendo se c'erano le possibilità di invocare l'articolo 4 quelli insomma più allarmati sono stati gli ucraini che fino praticamente alla sera nonostante poi indagini americane tra gli ispettori americani e lo stesso governo polacco hanno dichiarato che si tratta di un S-300 ucraino il governo ucraino continuava insomma a dire che era che era russo io direi che la cosa è abbastanza rientrata anche se i giornali si erano subito diciamo sperticati nel tirare fuori l'eventuale articolo 5 eventualità di terza guerra mondiale se siamo un po' più paragammatici onesti anche se è tragica la morte di due polacchi due fattori che stavano lì a farsi i cavoli di loro non si fa una guerra mondiale per un missile uscito che sia stato russo o che sia stato ucraino non basta a invocare l'articolo 5 non si possono fare delle guerre di questo livello per un incidente di questo tipo anche perché se i russi facessero veramente un attacco alla Polonia non lancerebbero un missile sarebbero un attacco strategico su obiettivi ponderati e sarebbe debilitante non una cosa una tantum tanto per dare tal'altro una scusa ai polacchi scusa che tal'altro insomma sono anche alla ricerca certo allora Mirko Mussetti la vicenda del missile in realtà è stata cavalcata subito in particolare dal governo ucraino da Zemeschi poi da Lituania e Polonia quindi dal fronte quello più antirusso degli europei e della guerra e c'è stata però una posizione americana molto interessante cioè c'è stato appunto il tentativo iniziale soprattutto dall'Ucraina di cavalcare questa vicenda per creare il grande caso Sbelli appunto e quindi un maggiore coinvolgimento della Nato io ricordo che appunto l'articolo 4 è quello che consente ai membri di convocare di fatto tutti gli altri alleati per consultazioni per verificarsi per verificare appunto le situazioni che potrebbero portare poi all'articolo 5 e cioè l'intervento a difesa di un paese da parte degli altri alleati che vi ricordo non è però un meccanismo automatico ci vuole comunque una decisione politica dei singoli paesi insomma detto questo c'è stato possiamo dirlo insomma in maniera più semplificata uno stop degli americani in particolare gli inzereschi e cioè che hanno subito raddrizzato il tiro perché in questa fase gli americani non vogliono un esacerbarsi della situazione anzi noi sappiamo che erano in corso dei negoziati tra Stati Uniti e Russia in questa fase sì allora i negoziati tra Stati Uniti e Russia sono sotterrani ci sono sicuramente perché è stato lo stesso consigliere nazionale statunitense Jake Sullivan ad ammetterlo ha detto semplicemente sì noi ci parliamo questo è abbastanza normale tra grandi potenze in particolare i nucleari le superpotenze nucleari cercano di evitare quegli incidenti che possono portare a un escalation a danno di entrambe peraltro quindi gli Stati Uniti vogliono evitare uno scontro diretto con la Russia questo era facilmente intuibile fin dall'inizio del conflitto anzi fin dalla vigilia del conflitto in Ucraina quando gli americani e i britanni ci hanno detto no noi non invieremo il nostro esercito in caso di invasione dell'Ucraina quindi era abbastanza chiaro e quella postura permane permane anche ora agli americani sta bene questa guerra fin tanto che a dissanguarsi è la Russia nel momento in cui iniziano a dissanguarsi gli alleati europei e gli Stati Uniti stessi la cosa inizia a non piacere più tanto per dire la situazione di fondo inoltre c'è da dire che gli Stati Uniti cercano in questo caso di essere obiettivi tenete presente che in caso di incidenti prima si tende a concordare una versione comune e poi a giustificare la versione non si fanno le indagini per arrivare ad una versione comune prima si decide la sentenza e poi si trovano i motivi per giustificare la sentenza purtroppo funziona così nelle relazioni internazionali e funziona così anche in questo caso di questo incidente nella località polacca gli Stati Uniti si sono concordati con Polonia in particolare ed altri paesi sulla postura da tenere e l'hanno tenuta il missile è ucraino ci saranno delle indagini non sapremo mai se era effettivamente ucraino o se era un pezzo messo lì di proposito sostituito resta il fatto che sul libro di storia si scriverà che era un missile ucraino cosa peraltro più che plausibile secondo me lo è per davvero per intenderci ma l'importante è che la ricostruzione non porti ad uno scontro frontale più ampio tra i due blocchi ovvero tra Russia e Bielorussia contro il blocco occidentale questo è molto importante evitare c'è inoltre da dire che aspetta mi sfugge cedo la parola all'altro Mirko che ne pensi perché ovviamente anche nelle prime ore ma anche dopo ma anche adesso non sono sicuro si stanno sviluppando tutta una serie anche di teorie comprottiste su questo missile che ne pensi ma la mia opinione è abbastanza simile nel senso anche se fosse stato russo probabilmente gli americani avrebbero fatto da piacere avrebbe minimizzato insomma la situazione probabilmente si sarebbe detto che era ucraino anche se era russo perché dare diciamo questo genere di assist alla Polonia che con tutto il bene che si può volere anche da parte degli americani è meglio tenerla al guinzaglio non dargli insomma un caso sbelli non è piaciuto agli americani ovviamente il fatto che Zelensky ha cavalcato subito questa cosa il fatto che tutti sono rimasti sull'ambiguo sia i polacchi sia gli americani aspettiamoli accertamenti significa che avevano già adottato una linea erano già d'accordo sul mantenere l'ambiguità e poi fare una dichiarazione insomma congiunta sulla cosa cosa che poi è uscita il giorno dopo parlato quando era stato chiesto a Biden direttamente cosa ne pensava dell'attacco lui ha detto io aspetto il risultato delle indagini che sono avvenute anche molto velocemente in meno di 24 ore quindi mi sembra abbastanza che tutto rientri insomma in qualcosa di programmato onestamente con saggezza perché rischiare insomma un allargamento del conflitto per un eventuale missile russo che anche fosse russo sarebbe un errore palesemente perché insomma non è che vai a sprecare dei missili da crociera per colpire dei trattori o un granaio quindi direi che la questione si analizza molto bene in base a come gli stati propongono una certa narrativa quando vedi che sono tutti concordanti verso una certa linea significa che c'è un preaccordo sul minimizzare la questione quindi secondo me è già rientrata nel senso non andremo non sono un tecnico ma insomma i missili in realtà ucraini e russi fino a qualche anno fa venivano costruiti in entrambe le parti cioè non è non dovrebbe essere poi difficile no per una delle due parti far sembrare un missile ucraino russo e viceversa insomma ecco diciamo che se gli ucraini volevano insinare perché c'è anche la teoria degli ucraini che lanciano un missile approfittando del caos dell'attacco russo non avrebbero usato un S-300 perché gli S-300 sono in utilizzo più che alto degli ucraini hanno un range molto limitato 250-300 km quindi è ovvio che se un S-300 non poteva partire da Russia forse dalla Bielorussia ma comunque la NATO avrebbe visto la rotta del missile se gli ucraini volevano inscenare un attacco dato che hanno messo mano a qualche sistema avanzato russo in questi mesi avrebbero usato uno di quei sistemi per farlo passare come un attacco misilistico russo quindi questa è la risposta delle varie teorie complottiste però Muzzetti come accennavi anche tu prima in realtà in geopolitica nelle relazioni internazionali indipendentemente da chi ha fatto cosa quello che contano sono le percezioni come dire la decisione politica si fa sì che poi si approfitti anche del momento ora indipendentemente chi sia stato e chi non sia stato si è visto subito che all'inizio chi cercava di appunto quelli che vogliono volevano incolpare la Russia e hanno subito cavalcato la loro posizione funziona così succede quello che succede nell'evoluzione normale dei fatti e poi ognuno cerca di portare acqua a proprio mulino in questo caso Zelensky è andato da un lato e gli Stati Uniti dall'altro esatto e secondo me la diplomazia di Kiev in questo caso non ha fatto una figura particolarmente brillante perché perché una volta sposata dagli Stati Uniti e dai suoi alleati la teoria del missile ucraino che andrà acclarata con delle apposite indagini Kiev non doveva contraddire gli Stati Uniti ha sbagliato soprattutto perché gli occidentali non hanno mai detto che la colpa di quanto accaduto sia Ucraina la colpa era comunque riservata alla Russia che ha effettuato l'attacco gli ucraini si stavano solo difendendo in qualsiasi caso quindi nessuno in Occidente ha accusato l'Ucraina ma il fatto che lo stesso Zelensky fino all'ultimo minuto fino all'ultimo momento abbia detto no non è un missile ucraino è un missile russo ha messo un attimino in cattiva luce Kiev stessa ad esempio sul Financial Times un diplomatico britannico ha detto siamo al ridicolo nessuno accusa Kiev eppure Kiev si sente quasi incolpata e questo oggettivamente crea un attimino degli attriti diciamo che la fiducia viene un pochino meno in futuro se prima ci fidavamo al 100% ora di Kiev ci fidiamo solo al 90% perché questo discorso dove insomma volevo portarti era che una delle ragioni di tutto ciò è Kherson poi vado da Campochiari cioè il ritiro dei russi da Kherson sembrava a un certo punto che avesse creato le premesse per un negoziato che sappiamo era in corso tra americani e russi e che potreva coinvolgere anche gli ucraini la reazione di Zelensky sia a Bali sia sulla vicenda del missile ha messo in evidenza come Zelensky in questa fase che vede appunto l'esercito ucraino in avanzata non voglia alcun negoziato e voglia capitalizzare al massimo no? sei d'accordo su questa interpretazione? Sì sotto il profilo bellico è logico da parte delle forze armate ucraine cercare di battere il ferro finché è caldo i russi sono in affanno sono in ritirata su diversi fronti l'Ucraina deve cercare ovviamente di riguadagnare più terreno possibile prima che magari arrivi una probabile sosta un probabile stallo invernale non sappiamo così e tecnicamente si può avanzare anche d'inverno diciamo che l'Ucraina è in una fase in cui sceglie anche tra le dichiarazioni occidentali quella che più gli fa comodo ad esempio il generale in pensione Ben Hodge ha sostanzialmente detto l'Ucraina ha la possibilità di riprendersi tutto il territorio la Crimea compresa la Crimea tornerà a Ucraina nella primavera del 2023 dice questo ecco dunque che Kiev sceglie le parole di un generale in pensione anziché del capo di stato maggiore degli Stati Uniti attualmente in carica Milley che dice no attenzione perché comunque è altamente improbabile che l'Ucraina riesca a recuperare tutti i territori Mark Milley poi ragiona da funzionario attivo cioè dice allora la riconquista è ovviamente basata sull'eroismo dei soldati ucraini ma qualcuno le armi ce le mette cioè sono gli Stati Uniti che ora stanno spendendo molti soldi per finanziare diciamo per sostenere le riconquiste ucraine e bisogna vedere fino a quanto gli Stati Uniti saranno disposti a metterci del proprio materiale bellico una grande potenza la prima cosa che pensa è a non assottigliare le proprie scorte perché una super potenza come gli Stati Uniti deve tenersi sempre pronta ad affrontare altre crisi in altre parti del mondo quindi di fondo facciamo riferimento a Taiwan diciamo ovviamente allora Campo Chiari Campo Chiari diciamo alla tua questa è una cartina che appunto mi hai girato tu e che mostro con piacere perché appunto a Kersson che quindi potrebbe essere l'inizio di tutta questa vicenda che cosa è successo? allora a Kersson è interessante vedere quello che succede perché come diceva giustamente Mirko Zelensky non si vuole fermare si batte il ferro finché è caldo e qui gli ucraini lo stanno battendo veramente duramente perché le famose tre linee difensive che i russi avevano montato dietro a Kersson al di là del Mieper in realtà sono già state abbandonate perché non riescono a mantenere nemmeno quelle linee sotto il fuoco ucraino e si stanno ritirando su delle linee ancora più indietro e più a ridosso della Crimea fra l'altro in questi giorni girano dei video ancora non accertato di uno sbarco ucraino sulla penisola subito sotto Kersson non si sa se abbia avuto non si sa se abbia avuto successo se ci hanno provato e sono stati respinti non è un caso che nell'ultimo batch diciamo l'ultima tranche di rinforzi americani c'erano 60 mezzi da sbarco io questa cosa l'avevo notata perché era palese per cosa sarebbero serviti per il passo successivo fra l'altro ultimamente ci sono altri 24 miliardi che vengono stanziati sul discorso di Miley sì anche io l'ho ascoltato ed era molto interessante perché è molto in contrasto rispetto alla Casa Bianca cioè quello che dicono i militari è abbastanza differente rispetto a quello che dicono i politici Miley è stato un po' sul vago nel senso che ha detto che gli ucraini potrebbero come non potrebbero era una una predizione abbastanza vaga però faceva abbastanza intendere che la Crimea era una cosa molto al di là a venire e non mi sembrava particolarmente incline a supportare gli ucraini fino alla Crimea che secondo me è una linea rossa che gli americani conoscono bene e forse anche gli ucraini stanno cominciando a capire o a percepire che gli americani non sono disposti ad aiutarli fino a lì che si riprendano tutto fino al alla guerra a febbraio ci sta ma che vadano oltre assolutamente no e comunque anche lo stesso Miley ha detto che riprendere tutto il territorio mano militari è comunque una cosa a divenire in anni non mesi o giorni perché comunque buttare fuori i russi dal restante 20% di territorio che hanno non è una cosa facile non è una cosa che avverrà nei prossimi mesi gli ucraini secondo me fanno io parlo dal punto di vista militare fanno bene a tentare oltre Kherson non dare tempo ai russi di riorganizzarsi perché qualora si riorganizzassero e creassero una linea difensiva solita sarebbe estremamente difficile per loro riuscire a compiere il balzo al di là del Dnieper se lo fanno adesso finché i russi sono demoralizzati finché non hanno abbastanza artilleria per rispondere al fuoco ucraino riescono probabilmente riusciranno anche a respingere fin dentro la Crimea che sarebbe il massimo insomma dell'obiettivo ucraino anche se siamo in inverno quindi è anche una mossa rischiosa per gli ucraini perché qualora fallissero in questo tentativo e sfociassero in una situazione inversa perché come dall'altra parte c'erano i russi nella piazza di Kherson ci saranno gli ucraini dall'altra parte la situazione logistica potrebbe diventare vulnerabile allo stesso modo come lo è stato per i russi e quindi in questo senso non è una trappola russa però potrebbe diventarlo qualora un'offensiva di questo tipo si impantanasse e tu avresti una testa di ponte ucraina dall'altra parte del Dnieper alla merce praticamente dei russi con delle linee logistiche molto accorciate potrebbe avvenire il controbalzo all'indietro quindi gli ucraini devono stare attenti l'inverso di quello che è successo ai russi che si sono trovati dall'altra parte del fiume isolati quindi va bene l'entusiasmo va bene colpire finché l'avversario è debole ma rischi di esporti anche a questo genere di pericoli esattamente come è successo dall'altra parte mi sembra che la ragione sia più politica che militare esattamente come lo è stata per i russi mantenere Kershom e Novakakov che in questa fase Zelensky vuole premere il più possibile anche se la ragione militare direbbe cautela attenzione le nostre truppe hanno già fatto quattro mesi di offensiva forse è il caso che in inverno ci si riposi tutti ci si riorganizzi e qui vengono anche gli americani nel senso come diceva prima Mirko gli americani non sono così inclini a ottemperare le richieste ucraine direttamente dai loro stock e quindi limitare le loro riserve tutto quello che viene mandato fa parte della nuova produzione questo lo si vede con gli IMARS si è messo a verbale gli americani hanno 366 IMARS in casa ma non li consegnano direttamente li danno quelli che usciranno dalle nuove linee produttive in parte perché non sono in grado di supplire gli ucraini di abbastanza missili per dare altri IMARS nel senso se consegnassero altri 20 IMARS gli ucraini sono in possesso di una quarantina di IMARS gli americani si sono resi conto che non sono in grado di dare tanto munizionamento quanto ne consumano gli ucraini e quindi inevitabilmente le offensive saranno cadenzate con la capacità di supply e quindi di rifornimento e quindi ci saranno delle pause inevitabili perché non è una catena continua di logistica lo stesso vale per i russi entrambi i lati devono prendersi delle pause tu ci hai ricordato tante volte hai rimosso la carta di Limes come i russi per tenere la Crimea devono tenere Nova Cacocca cioè la possibilità di rifornire di acqua dolce la Crimea da questo invaso che vedete appunto sul fiume dal fiume e che diciamo adesso al di là della città di Kherson la regione di Kherson è fondamentale per questo sì paradossalmente la cittadina di Nova Cacocca che è una cinquantina di chilometri più a monte lungo il fiume Denepre rispetto al capoluogo Kherson è più importante del capoluogo stesso perché? perché lì viene in vaso idrico che rifornisce d'acqua dolce la Crimea non dimentichiamo mai che la Crimea è priva di sorgenti idriche proprie e che tendenzialmente le falde si sono quasi tutte esaurite infatti i russi sperano in un inverno piovoso in Crimea tanto per intenderci per rifornire un attimino le falde il problema è che se perdessero proprio quel villaggio quella sponda gli ucraini potrebbero tornare a chiudere il canale che rifornisce d'acqua dolce la Crimea e questo sarebbe un serio danno per l'economia russa nella penisola Eusina il Nova Kakovka non è un caso che sia stata conquistata i primi i primissimi giorni dell'invasione già a fine febbraio proprio perché è fondamentale riportare acqua nella in Crimea infatti il primo video propagandistico russo è stato proprio la riapertura del canale esatto facciamo vedere l'acqua che tornava a fluire in un canale a secco e il problema è che diventa davvero difficile conservare questa città una cosa che potrebbero cercare di fare i russi è minare i sistemi delle chiuse per guadagnare diciamo qualche tempo per impedire agli ucraini di tornare a chiudere il canale è grossa l'altra saremmo qui a livelli non dico apocalittici ma quasi e dire non riusciamo a tenere Kakovka la diga allora muoia Sansone con tutti i filistei abbattiamo le paratoie e l'onda andrebbe sostanzialmente a danneggiare la controffensiva ucraina attraverso l'estuario del Dnepro il crodo della diga esatto ricordiamoci comunque che la sponda dove sono attestati gli ucraini è comunque sopraelevata rispetto alla sponda diciamo russa rispetto alla sponda orientale russa resta il fatto che se gli ucraini cercassero diciamo di attraversare l'estuario potrebbero ritrovarsi impantanati diciamo però stiamo stiamo un po' fantasticando però resta una possibilità che fa paura infatti gli stessi media russi ne parlano della possibilità di abbattimento di questa diga ovviamente ne parlano incolpando gli ucraini che sarebbero gli ucraini che l'abbatterebbero con la propria artiglieria allora in conclusione io appunto tirerei le somme dove appunto col ritiro da Kerson sembrava che si potesse aprire qualche opportunità di negoziato no? cioè in sostanza l'idea che la Russia potesse tenere la parte costiera il Mardazzo che gli consente il controllo pieno della Crimea e arrivare appunto prima dell'inverno e delle difficoltà che avranno certamente gli ucraini la popolazione ucraina a freddo eccetera a un punto di incontro ma tra Bali la questione del missile insomma le possibilità di negoziato mi sembrano in questa fase è molto difficile no? che ne pensate? crede che sono nulle anche perché gli ucraini hanno ripreso ad attaccare giusto ieri l'attacco all'aeroporto in Crimea quello che si tratta proprio sull'istmo che collega la Crimea al resto del continente quindi più gli ucraini avanzano più sono in grado anche di attaccare in profondità il fatto che abbiano la volontà e la capacità di farlo va a testimonianza che non hanno nessuna intenzione di fermarsi quindi le trattative politiche secondo me se forse hanno avuto una possibilità di entrare sono volate istantaneamente dalla finestra sia con l'attacco con la caduta di Kerson con il controattacco russo e con il fatto che gli ucraini non hanno nessuna intenzione di fermarsi a meno che gli americani non decidano di passare alle maniere forti con lo stesso Zaneschi e con l'Ucraina attualmente l'Ucraina dipende sostanzialmente dalle decisioni politiche statunitensi cerca di opporsi quando non gli piacciono ma tendenzialmente se viene meno il supporto dell'America viene meno qualsiasi possibilità dell'Ucraina di riconquistare totalmente i territori perduti quindi dipendono anche dalle forniture militari dell'Occidente oltre che di altre cose dagli idrocarburi al banale supporto finanziario attualmente l'Ucraina è brutto a dirsi ma può essere considerata uno stato fallito non è in grado attualmente di pagare le pensioni ai dipendenti pubblici grazie ad una propria produzione con il proprio erario per intenderci serve il supporto finanziario occidentale anche solo per questo quindi diciamo che Kiev può diciamo essere convinta agli Stati Uniti ad abbassare un attimino le proprie chiamiamole pretese pretese magari sono legittime quindi però la situazione ecco è questa allora grazie a Mirko Mussetti grazie a Mirko Campochiari del canale Parabellum vi ricordo appunto se vi è piaciuta questa trasmissione se vi piacciono i nostri video di iscrivervi al canale di Limes al canale YouTube di Limes e anzi adesso abbiamo anche una nuova newsletter dedicata solo al canale la troverete in descrizione poi nei commenti nella pagina Facebook altri social oltre a quelli ovviamente tradizionali di Limes quindi avrete tante possibilità per dimostrarci il vostro sostegno e per appunto continuare a seguirci anche in maniera approfondita allora ancora grazie a Mirko e Mirko e alla prossima ciao a tutti alla prossima ciao a tutti